Adesso nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia di Emanuele, un bambino di sei anni affetto da una grave sindrome che però è riuscito attraverso l'arte a dare un significato tutto nuovo alla vita per lui e per la sua famiglia. Sentiamo. Emanuele Campostrini è un bambino di sei anni che vive in una frazione del comune di Massarosa. I suoi amici e in famiglia lo chiamano affettuosamente Mele. È affetto da una sindrome che lo rende tetraplegico a posturale. Dall'età di tre anni ha trovato spontaneamente nella pittura, come si trattasse di un gioco, un suo linguaggio che gli permette di entrare in sintonia con la realtà esterna. I suoi dipinti sono stati esposti molte mostre e valutata dai critici l'eccezionalità del linguaggio delle sue opere, una sua mostra è ospitata nel chiostro della Chiesa della Santissima Annunziata a Firenze. Emanuele Campostrini, per gli amici Mele, è un bambino che parla con gli occhi e quindi è quegli occhi così scuri che sono un universo silenzioso ma molto eloquente. E quindi ha una serie di linguaggi che naturalmente sfociano come espressione massima nella sua capacità evocativa di un linguaggio artistico che è unico nel suo genere. È un piccolo genio, va essenzialmente visto come tale perché le qualità pittoriche, compositive, creative che lui ha non sono date da scuola, non sono date da contaminazioni culturali, ma è data dalla sua istintualità, dalla sua azione estetica che manifesta proprio nell'atto compositivo. Fa delle scelte, è lui che decide quando iniziare un'opera, quando finirla, è lui che decide quanto e quale colori utilizzare. Quindi ha una serie di comorbibilità legate alla sua sintomatologia per la salute cagionevole che ha. La mostra nel chiostro della Santissima Annunziata calerà il sipario domani sera, avendo ottenuto un successo importantissimo sia di pubblico che di nuovo estimatore dell'arte del piccolo Mele. L'augurio è di vedere le sue opere esposte anche in Versilia. È un bambino ricco nel più profondo dell'animo e riesce a coinvolgerci con estrema naturalità, semplicità. Lui non chiede nulla, però ci dà tutto. Lui ha un universo che dovrebbe essere visto, dovrebbe essere come la spettacolarità quando guardiamo un cielo stellato noi e ci appare così immenso, gli occhi di Mele sono questo universo interiore.